Ciao, io sono Filippo Lander e questo è il mio Minuto di Recupero. Il mio soprannome qua in Italia è Phil. Se non fossi un calciatore, sarei un avvocato. Il mio film preferito è Signore di Anello. Diventa quello per cui sei nato. Se io fossi un tifoso, il mio giocatore preferito sarebbe Safir. Cosa che manca di Svezia è amici e anche dolce. Il mio giocatore preferito da bambino è Zlatan. Come tutti i svedesi. Il mio compagno di stanza è Emil Kraft. Le cose che mi piacciono più di Bologna è cibo. Pizza, pasta. Il mio attore preferito è Leonardo DiCaprio. Se avessi un superpotere, vorrei volare. Il mio compagno di squadra che non vorrei mai avere come avversario è Federico Francesco. Molto veloce. Io sono alto, lui è corto. È difficile. Il momento più bello a Bologna è quando ho fatto gol contro Lazio.